rosso oggi sembri ballotelli vabbè non posso leggerlo rosso fai schifo sembri gabibbo no rosso sei lo schifo sei vomitevole rosso ti tromberei brutto anna sei porca bomba niente sentiamo ricco cosa vuole dirci sei stupenda ma non sei un uomo per 15k bits non puoi rifiutare diglielo anna sono 105 200 euro sono ma per un post ma mai c'è un brand che entra nel mio profilo no non posso che cazzo è no raga chi è più ma perché cazzo è ma basta ma lei cattivissima ragazzi limito anni in serata rosso ma una bella torre infernale l'hai piazzata per anna vai cosa fa cosa fa ma non è vero inca bevi inca bevi inca bevi bevi se no non fai così non fai da dire gli schiaffi no non li tiro sono prima da casa che ero bordeaux ragazzi così sembra tra l'altro lasagna ci assomiglio si cosa dico allora guarda ma allora sentono che tu no da fastidio da fastidio da fastidio bomba e niente anna è molto 25k bits ultima offerta e ci sto rimettendo ti prego 25k bits sono tanti e ma per forza io no così no io non faccio il cane cioè proprio te lo dico no ma non ti voglio nemmeno io no fare il cane no ma fa ridere mi accarezzi facciamo una cosa mi accarezzi ciao 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 ciao